Obitorio dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila ancora presidiato è stata la mattinata dell'autopsia sul corpo di Matteo Messina Denaro per fornire la bara una società di pompe funebri aquilana e la tumulazione dovrebbe essere prevista, il condizionale è d'obbligo giovedì mattina nel cimitero di Castelvetrano, alla presenza di pochi familiari non ci sarà ovviamente il funerale religioso per lui e il viaggio sarà ovviamente tutto scortato con staffette continue di forze dell'ordine è la giornata dell'autopsia sul corpo del boss Matteo Messina Denaro, un atto tecnico dovuto e voluto dalla magistratura proprio in ragione della controversa figura del boss, la famiglia del capo mafia non ha nominato nessun consulente a sbrigare l'esame autoptico, solo l'esperto nominato dalla procura dell'Aquila Cristian Dovidio dall'ospedale di Chieti a sbrigare invece tutte le pratiche per il ritorno della salma in Sicilia la nipote sua legale l'ospedale questa mattina è ancora presidiato da agenti e polizia penitenziaria la salma di Matteo Messina Denaro sarà trasferita a Castelvetrano in provincia di Trapani probabilmente giovedì mattina all'alba sarà tumulata lì nella tomba di famiglia sarà sepolto, il funerale religioso non ci sarà perché non voluto dal boss ma non previsto neanche in questi casi quel che è certo è che il carro funebre per il boss arriverà dalla Sicilia da Castelvetrano e questa ad oggi appare l'unica certezza il viaggio non dovrebbe essere in nave da quel che si sa questa ipotesi anche se si stanno ancora vagliando tutte le possibilità potrebbe essere esclusa per la lunghezza del viaggio così però avvenne per Totorriina le prefetture ovviamente si stanno coordinando per quello che sarà comunque un viaggio blindatissimo previste staffette di polizie e carabinieri che si daranno il cambio per il personale del nosocomio aquilano che in questi otto mesi appazientato e si è comportato sempre in maniera super professionale è arrivato il momento del ritorno alla normalità